Per avere un'azienda ricca e prospera, quello che fai oggi non basta. Devi sviluppare i tre pilastri di ogni impresa di successo da fuori. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei sati del web. Il mio lavoro è portare i clienti alle attività tramite la gestione delle loro pagine social aziendali. Oggi vediamo un aspetto molto comune, una mancanza che ho visto fondamentalmente in tutte le aziende. Con cui ho lavorato, collaborato, in cui ho lavorato in passato. Cioè fondamentalmente è una riflessione che mi porto dietro da molto tempo. All'inizio era una domanda, perché queste aziende fanno fatica a lavorare, a guadagnare, ad avere utile. Partiamo dal presupposto che per un imprenditore o un'imprenditrice il successo possiamo rinchiuderlo in tre frasi. Incassi costanti, aumento dell'utile, ore libere per l'imprenditore o l'imprenditrice. Questi sono tre aspetti che mancano a tantissime aziende là fuori. Si fa fatica, si arranca e oggi voglio spiegarti il perché. Piccolo disclaimer, non andiamo a guardare su quella che è la capacità produttiva del prodotto o del servizio. Non metto becco in quello. Sei sicuramente molto più bravo o più brava di me a, barra, fare da mangiare, fare massaggi, dare consulenze di tipo fiscale, costruire case, disegnare progetti, eccetera, eccetera. Non andiamo a sindacare sulla tua abilità artigianale, l'abilità tecnica. Perché in quella hai studiato, hai esperienza, perfetto, meraviglioso. Infatti i sarti del web, per esempio l'azienda che ho fondato, non va mai a mettere becco su quello che fai nello specifico. Ma va a sviluppare i tre pilastri di cui parliamo oggi, che sono una mancanza che ho visto ovunque. Non ho mai visto un'azienda, non ho mai lavorato dentro, fuori, collaborato, avuto come clienti o clienti di questa azienda, un'azienda forte in questi tre pilastri. Perché? Perché è un qualcosa che manca nella cultura italiana. Quindi dicevo, le tre cose fondamentali che vogliono tutti gli imprenditori e imprenditrici, al di là di cose personali, perché il successo cambia a seconda di persona per persona. Ma io ti sfido a dirmi che non vorresti incassi costanti, che non vorresti utile a fine anno e che non vorresti tempo libero. Invece cosa succede? Gli incassi sono altarenanti, spesso si va sotto con l'utile, non si riesce ad avere un momento di libertà, un momento di respiro. Perché? Perché? Adesso lo vediamo insieme. Molto bene. Perché faccio questa puntata? Vediamo, da pochissimo ho dato una consulenza a tre imprenditori, tre soci, ok? Nello specifico solo uno di loro era già imprenditore per altre aziende che aveva in passato. E mi ha dato ragione su tutto quello che ho detto durante la riunione, quindi è stato una grande soddisfazione. È bello quando non devi combattere, no? Per far capire le cose. Gli altri due erano professionisti, cioè sono professionisti che hanno la loro prima esperienza come imprenditori. Ora sono tre soci che sviluppano la loro azienda e hanno chiesto una consulenza per capire un po' come muoversi, cosa fare. E io ho analizzato la situazione, il mercato, la loro esperienza, cosa facevano, cosa vorrebbero fare. Ho dato un attimo il mio parere sulla situazione, tra cui gli ho spiegato che sono carenti su questi tre pilastri e devono svilupparli. Quindi cosa fare, cosa non fare. E quindi ora vado a dire a te tutto quello che ho detto a loro. Poi a loro ovviamente gli sto aiutando a svilupparlo. A te dovrai fare da solo o da sola. Allora, andiamo drittissimi al punto perché non c'è bisogno di menare il camperlaia. Intanto, qual è la base? Mi raccomando, non mettermi in bocca cose che non ho detto, parole che non ho detto. L'abilità tecnica di fare le cose è la base, è l'inizio. Se non fai bene un prodotto o servizio, fallisci. Ma se fai bene un prodotto o servizio, non è abbastanza per avere successo. Capisci questa cosa? Cioè, è la base, è una condizione necessaria, ma non è sufficiente. È la partenza. Perché in Italia siamo bravi a fare le cose, ma le aziende sono molto piccoline, fatturano poco, eccetera, eccetera. Perché? Perché siamo sviluppati in un mercato in cui bastava sapere fare le cose e tanto la gente veniva a chiederle. Ok? Perfetto. Però poi il mercato si è liberalizzato, si è allargato, si è ampliato, si è globalizzato. C'è una grandissima, grandissima concorrenza. Il cliente è sempre più distratto, anche sempre più attento, diciamo, a quando deve comprare. Distratto nel senso che ha tante cose a cui pensare, tanti player, tante altre aziende oltre la tua, fra cui scegliere, ma è attento a quello che sta comprando. Quindi diciamo che ti fa il pelo spesso, no? Quindi, poi cosa intendo quando dico che il mercato si è liberalizzato? Io, per esempio, quando ero piccolo, mi ricordo, avevo un'edicola di famiglia e quest'edicola aveva una licenza, le licenze erano bloccate, ok? Era un numero chiuso. Oggi no, oggi trovi le riviste, i giornali, anche al supermercato. Al tempo non so, perché? Perché c'era una protezione nel mercato. Per esempio anche le estetiche, c'era una protezione che mi sembra all'inizio del 2000, 2008, 2007, si è liberalizzata la situazione, no? Quindi questa cosa ha contribuito nel loro settore ad aumentare la concorrenza. Se devo dirne un'altra così che mi viene in mente, le farmacie. È previsto circa per il 2035 la liberalizzazione delle licenze, delle farmacie. Quindi, come succede per esempio in America, noi potremo trovare i farmaci anche al supermercato, ok? È particolare questa cosa che solo le farmacie possono vendere medicinali. È una cosa che dà un vantaggio competitivo, vantaggio che perderanno già oggi, incontro farmacisti che vogliono aumentare il loro fatturato perché non sta andando come vorrebbero, pensa dopo che sarà liberalizzato il mercato anche per loro. Quindi diciamo che per tutti noi si va verso, per tutti i settori del mercato, verso una grandissima liberalizzazione e globalizzazione. Per qualcuno lo è già, per qualcuno lo sarà in futuro. E in questo mercato la semplice abilità tecnica, la capacità di produrre un prodotto o servizio, non basta per fare le tre cose che abbiamo visto. incassi costanti, avere utile fine anno e avere tempo libero per l'imprenditore o l'imprenditrice, ok? Quindi, posto che tu sai fare il tuo lavoro, ho incontrato tantissimi professionisti bravissimi, tantissimi imprenditori con un prodotto veramente eccellente, un servizio meraviglioso, ok? in difficoltà. Posto che sai fare questa cosa e vuoi che l'azienda ti vada bene, devi sviluppare i tre pilastri. Il primo pilastro, in assoluto, il più importante perché se non c'è questo, quegli altri cadono, è l'acquisizione costante di contatti. Devi avere una macchina, io mi sgolo da anni a dire questa cosa, avere una macchina che porta in azienda contatti in linea con quelle che sono le tue aspettative, con quelle che sono le aspettative della tua azienda. Cosa intendo? Una cosa importantissima. Tu attualmente hai un'impresa, la tua impresa ha delle caratteristiche, le caratteristiche della tua azienda fanno sì che non tutte le persone siano adatte a te, ok? C'è questa credenza comune, perché magari vediamo, che ne so, la Barilla, vediamo la Coca-Cola, vediamo queste grandi aziende che vendono tutto a tutti, cioè vendono il loro prodotto a una grande massa e pensiamo allora a quello in modo giusto. No, loro sono multinazionali con i miliardi sotto alle chiappe. Tu no. Tu non puoi assorbire la loro capacità produttiva, non puoi proporre così tante persone su media mass market, cioè sulla TV per esempio, la radio, non puoi essere disponibile in tutti i supermercati, quindi il loro modo di lavorare, di fare impresa, non è il tuo. Allo stesso modo, tu non puoi creare qualcosa che va bene a tutti, tu devi focalizzarti su qualcuno. L'essenza della comunicazione su misura fondamentalmente è che non puoi vendere tutto a tutti, devi focalizzarti su un cliente su misura. La tua macchina, nel primo pilastro, è attirare costantemente contatti. In inglese si dice lead generation che attira lead in target. Lead vuol dire una persona già interessata a quello che fai, a quello che produci, che proponi. In target significa che è un bersaglio adatto, ok? Hai soldi per pagarmi. Metti caso che il mio cliente su misura scopriamo che è una mamma dai 30-50 anni, perfetto, deve essere una mamma dai 30-50 anni. Non può essere un signore pensionato o un bambino, ok? O una bambina, no? Donna dai 30-50 anni. Se mi focalizzo nel servire al massimo questo cliente su misura, che magari poi è lavoratrice, oppure no, è casalinga, cioè ha delle caratteristiche al tuo cliente su misura, no? Nel momento in cui mi focalizzo a servire al massimo questa persona, allora la mia azienda potrà crescere in maniera costante e nel tempo. Perfetto. Il primo pilastro attira costantemente contatti dentro la mia azienda. E cosa serve per fare questo pilastro? campagne di comunicazione online con materiali di comunicazione online che attirano quella persona e rimbalzano via gli altri. Cioè, se dicevo, il mio cliente su misura è una donna di 30-50 anni, il ragazzo di 14 deve vedere i miei materiali e dire che schifo, non comprerai mai da quell'azienda. Perfetto, benissimo, è esattamente il nostro obiettivo. Non avere te in azienda, avere lei, ok? Puoi ribaltare la cosa, dipende da chi sei tu. Cioè, la Mercedes ad esempio non vende a tutti, ha dei clienti molto specifici, ok? Pur essendo una grande multinazionale, sa perfettamente che i suoi clienti sono solo certe persone, non tutti. Un'azienda non può crescere, non può svilupparsi se vende tutto a tutti. E il primo pilastro ti aiuta proprio a tirare quei contatti lì, contatti in continuazione, ok? Se fossimo ancora nel mercato vecchio, ti basterebbe avere i tuoi clienti, tenerti quelli e siamo a posto così. Non siamo più nel mercato vecchio, non siamo più in un mercato stabile, fermo, ok? A zero. Siamo nel mercato che si muove e quindi avere costantemente contatti. Quanti? Uno? Dieci? Cento? Mille? Non lo so, dipende dalla tua azienda. Ok? Se vuoi capire come applicare quello che sto per dire nel resto della puntata, questo pilastro, ma anche i prossimi, puoi sempre rivolgerti ai miei tutor. Puoi chiedere una consulenza gratuita su isate.web.it slash tutor. Lasci i tuoi dati. Mezz'ora con un esperto o un esperto di comunicazione online che ti darà delle indicazioni, ti farà delle domande molto specifiche. Ascolterà la tua situazione, capirà qual è il tuo prodotto a servizio, chi è il tuo cliente su misura, a che punto sei della crescita della tua azienda e poi ti darà delle indicazioni per capire in quale punto devi lavorare meglio e in quale direzione devi mettere i tuoi sforzi fondamentalmente. Ok? Quindi, il primo pilastro l'abbiamo visto, passiamo direttamente al secondo, importantissimo, la vendita. Devi imparare a vendere. Il tuo staff, i tuoi collaboratori devono imparare a vendere. Non basta più semplicemente la persona entra, vuole uno spillo, gli vendi lo spillo, vuole un cacciavite, gli vendi il cacciavite. No! Qual è la tua situazione? Qual è il tuo problema? Si torna spesso? Non torna spesso? È una cosa a spot che stai comprando? È un qualcosa che succederà ancora? Hai un bambino? Hai un cane che ti fa i casino in casa? Perché nella situazione del cliente scopri il problema? Perché dietro al desiderio di comprare c'è il desiderio di risolvere una situazione. se una donna ti chiede una ceretta e tu gli vendi solo la ceretta sei una pessima estetista perché devi vendergli un pacchetto quei peli torneranno quella persona deve tornare da te ancora, ancora e ancora e devi scoprire quali sono i suoi desideri in cosa vuole migliorare esteticamente per dargli la soluzione. Ok? Se una persona viene da me e mi chiede una campagna di comunicazione online e poi se ne va sono un pessimo sarto perché devo dargli un pacchetto di comunicazione online che faccia crescere la sua azienda. Ok? Perché molto probabilmente questa persona non sa di cosa ha bisogno. Tu sei l'esperto o l'esperto del tuo settore non la persona che viene a chiederti qualcosa. Lei nella sua ignoranza sta chiedendo solo una parte della soluzione. Tu sei l'esperto o l'esperto il professore la professoressa il guru colui o colei che può indirizzare il cliente a comprare quello che è veramente giusto. Quindi se ti serve la capacità di analisi di capire questa cosa poiché la capacità di vendere perché vendere ragazzi è una scienza è una scienza che molte persone fanno così a istinto ed è sbagliato sbagliatissimo perché se vuoi vendere costantemente alle persone devi vendere in maniera sistematica ricordare i dati delle persone tenerli magari in un database se non sai di cosa stiamo parlando vai su automazione su misura trovi il link in descrizione perché ti serve un posto in cui tenere i dati dei tuoi clienti che sono importantissimi per continuare a vendere ancora metti in caso che vendi qualcosa che finisce nel tempo che ne so cibo da portare a casa o un prodotto o qualunque cosa ok scadenza dobbiamo vendere ancora ricordiamoci contattiamolo perché deve comprare ancora è il suo compreanno diamogli quello che può essere un invito ok facciamo sentire importante questa persona eccetera eccetera adesso non stiamo a sviluppare questo punto perché veramente non finirei mai però quando ho detto che anche il tuo staff deve sapere vendere è un aspetto che in molti sottovalutano conta che metti in caso che siete entrati in azienda faccio un esempio a caso tutti e tre siete responsabili della vendita perché se una persona entra e incontra tipo che ne so oppure chiama in azienda incontra la segretaria la segretaria deve passare la telefonata al venditore ma deve fare delle domande deve mettere a suo agio la persona che sta chiamando deve risolvere una situazione deve passare la palla una palla buona come se tu stessi giocando che so a calcio o a pallavolo ok devi alzare la palla lo schiacciatore devi alzargliela bene ok o l'ha schiacciato e verrà male magari il consulente il venditore è lo schiacciatore e la segretaria deve imparare a passargli una buona palla se non sviluppi il secondo pilastro della vendita i soldi che hai investito nel primo pilastro vanno tutti in fumo tutti tutti perché venderai solo a caso venderai per natura una cosa che mi fa incazzare a bestia il cliente verrà a comprare quando avrà bisogno questo è il pensiero magico dentro la testa delle persone ok della maggior parte degli imprenditori e imprenditrici se ce l'hai cosciente bene cambiamo se sei non cosciente rendite conto perché la maggior parte degli imprenditori e imprenditrici aspetta che sia il cliente a venire a comprare quando ha bisogno così la concorrenza te lo porta via perché non hai il primo pilastro che ti porta dentro il contatto e non hai il secondo pilastro che vende in maniera costante ai suoi contatti alle persone che hanno avuto un contatto con me ok che siano potenziali clienti che siano già clienti ok ma voglio farti un esempio per esempio se io vado a Disneyland il bigliettaio che prende il biglietto per farti entrare ok i tornelli è istruito su come prendere quel fottutissimo biglietto perché fa parte ok il salutarti il prendere il biglietto guardarti chiederti come ti chiami sorridere eccetera eccetera non sto scherzando c'è una procedura che i bigliettai devono mettere in pratica altrimenti vengono licenziati perché perché se fanno le cose bene la persona sarà più felice ed entrando comprerà di più grazie a questo sistema di vendita perché la Disney ha sviluppato tantissimo i tre pilastri in cui ti parlo in questa puntata grazie a questa meravigliosa esperienza Disneyland è il luogo sulla terra in cui si staccano più soldi per metro quadrato in cui si fanno più soldi per metro quadrato che per per spazio calpestabile io pensavo fosse Las Vegas no è Disneyland ok perfetto quindi ricordati tantissimo questa cosa qui ogni ogni membro del tuo staff deve sapere di vendita deve sapere qual è il suo ruolo e qual è il suo il suo compito e deve saperlo fare ok altrimenti la vendita non avviene o avviene non avrai quell'utile a fine anno perché ricordiamoci che vendere solo una cosa a una persona oggi a meno che tu non stia vendendo transatlantici case case cose di questo tipo vendere una sola cosa ragazzi non copre più le spese di fare azienda devi prendere un cliente e vendegli nel tempo ok quindi il primo pilastro devi portare dentro contatti in linea se tu tipo una persona può comprare un monolocale e tenti di vendergli una villa ovviamente stai sbagliando stai facendo male il tuo lavoro perché perché hai attirato un contatto non adatto e non hai capito che non erano adatto e lo stai lavorando secondo sistemi che non sono basta qualcosa si è inceppato si torna indietro si ricostruisce lo schema quindi il primo pilastro attiri i contatti il secondo pilastro la vendita ok terzo pilastro importantissimo quello che veramente ti dà la pensione sviluppare una squadra uno mi dirà è una è una guarda questo è proprio un'obiezione che mi è fatta in continuazione in continuazione eh ma non ci sono persone adatte ok stammi bene a sentire le persone buone brave intelligenti non vanno in aziende scassate ok per avere persone valide devi avere una squadra organizzata e non puoi avere una squadra organizzata se non hai persone valide ok sembra un cane che si morde un serpente che si morde la coda e comincia a girare è un problema da qualche parte bisogna iniziare ok da qualche parte bisogna iniziare devi fare una squadra che lavora che funziona che ognuno fa la sua roba questo è un aspetto importantissimo ma mi rendo conto che non ho tempo oggi per svilupparlo non ho neanche intenzione considera che ad esempio una cosa che noto sempre nei ristoranti è se hanno o non hanno una persona alla porta che accoglie le persone e le porta al tavolo le catene più sviluppate quelle più ricche ce l'hanno sempre hanno sempre una persona che risponde al telefono hanno sempre una persona che accoglie le persone alla porta che gli chiede cosa vogliono gli porta l'acqua magari eccetera perché dà la palla al venditore che è il cameriere non è un cameriere quella persona quella persona ha un altro lavoro che non è fare il cameriere ok e così per tutti ma anche un professionista ok un professionista un consulente bravissimo a fare il suo lavoro ma dovrà rispondere lui al telefono cioè se un consulente che fa molto bene il suo lavoro cazzo meno di 2-3 mila euro un'ora del suo tempo non può valere e allora deve rispondere al telefono cioè sta buttando via il suo tempo piuttosto prende una segretaria o un segretario non so se si è maschile di questa parola siamo un paese molto misogino prende una segretaria ok che risponde al telefono e filtra i contatti in entrata avrà un qualcuno che fa una prevendita per esempio ho fatto una visita oculistica ho gli occhiali dei problemi negli occhi e il professionista non era da solo in studio aveva la segretaria aveva due ragazze che facevano un certo tipo di analisi un ragazzo che ne faceva un'altra era molto divisa come competenze e poi c'era il professionista c'era che alla fine raccolti tutti i dati che hanno raccolto questi ragazzi qua questi ragazzi e ragazze mi ha dato una consulenza ok non puoi fare il laser non puoi fare questo non puoi fare quell'altro ma possiamo fare quest'altra cosa ok se fosse stato di lui da solo a fare tutto ti rendi conto che esplodi e esplodi fatturi molto perché non hai tempo e questo è il fatto ragazzi il tempo il tempo come fai? come fai a pensare di fare imprese senza una squadra? vuoi morire nell'azienda? e se non la strutturi bene l'altro giorno mi stava litigando un tizio sotto le sponsorizzate che un video del modellista lo aveva triggerato tantissimo mi ha fatto incazzare un sacco e insomma mi dice un sacco di robe mi dice un sacco di brutture e a questo punto gli dico ma tu mi stai dicendo che hai 50 punti vendita e 70 dipendenti ma che per andare dal commercialista o dai tuoi fornitori devi chiudere l'azienda e tu hai 70 dipendenti che cacchio ci stanno a fare lì le belle statuine cioè che tu non puoi prenderti del tempo per andare dal commercialista allora non puoi prenderti del tempo neanche per stare con i tuoi cari non puoi prenderti del tempo neanche per le tue passioni devi chiudere l'azienda ok cioè questa è anche una battaglia che noi sarti potremmo mettere da tantissimo tempo che cazzo chiudi per andare in ferie ma vai in ferie quando vuoi struttura una squadra che manda avanti l'azienda quando tu non ci sei e vai in azienda anche 6 mesi all'anno ma chi se ne frega dove vai cosa fai? se l'azienda continua a macinare i clienti macinare i soldi fare fatturato fare utile prendi di tutto il tempo non ce la fai perché non hai questa squadra non hai questa struttura ok ricordiamoci sempre ragazzi che io sono imprenditore quanto te ok sono nato in un'azienda di imprenditori terza generazione so perfettamente quali sono i problemi perché la mia famiglia ha questi problemi ok e continua a verli perché continua a fare le cose nel vecchio modo è una battaglia perché perché sei convinto convinta che le cose siano giuste così ma non ti rendi conto dati alla mano dati alla mano che non hai tempo non hai flusso di cassa costante non hai un bell'utile a fine anno ok c'è qualcosa che non sta andando non è che stai facendo male il tuo lavoro nessuno dice questo sei bravissimo sei bravissimo a fare la tua cosa ma se non sviluppi questi tre pilastri come fai a sviluppare l'azienda come fai a far crescere un'impresa che a un certo punto è lei che si prende cura di te perché oggi chi è la pila il motore la dinamo di questa azienda chi è la benzina di questa azienda tu sei l'agnello sacrificale della tua impresa se crepi tu crepa l'impresa crepa l'azienda come facciamo? dimmi come facciamo? è un problema è un vero problema ho fatto presente questa situazione alle tre persone che erano di fronte a me mi hanno dato ragione in pieno l'imprenditore mi ha confessato che uno dei pilastri quello sulla squadra l'ha sviluppato per casualmente ok? in effetti tante aziende che sviluppano casualmente uno o due pilastri ok? non si rendono conto neanche come hanno fatto ma era più facile tra l'altro anni fa le imprese potevano svilupparsi in maniera molto più semplice quando c'era meno concorrenza oggi sviluppare un'azienda è più difficile il tuo cliente è più attento a cosa sta succedendo dove mette i suoi soldi non è vero che non spendono le persone perché i fatturati stanno aumentando per alcune imprese e il flusso di contanti di soldi liquido c'è ok? la gente sceglie con cura a chi dare i propri soldi e li dà alle aziende che gli danno più sicurezza devi sviluppare questi tre pilastri per poter attirare un cliente in linea vendere di più nel tempo e poterti pian piano staccare dall'operatività perché questo ti permetterà di sviluppare ancora meglio l'azienda ok? di specializzarti ancora di più nel tuo lavoro capire cosa ti piace nel tuo lavoro delegare quello che non ti piace la cosa migliore è questa fondamentalmente no? come dicevo prima avere successo cioè sentire che hai avuto successo è un qualcosa di diverso per tutti noi ok? però ho incontrato tantissimi imprenditori imprenditrici nella mia vita e so che molto probabilmente sei orgoglioso o orgogliosa di quello che fai vuoi che le persone si rendano conto della superiorità del tuo prodotto o servizio ti piace che le persone comprino e ringraziano per quello che hanno comprato dicono ah che bello grazie per aver dato questa soluzione ai miei problemi vuoi soddisfazioni del tuo lavoro ed è giustissimo vuoi anche un ritorno economico perché hai il rischio di impresa hai tutta la fatica che hai fatto fino ad oggi ok? va ripagata devi avere la soddisfazione e il successo che meriti come puoi muoverti in questo senso? sviluppando i tre pilastri che sono abilità totalmente diverse da quelle che ci hanno insegnato non insegnano a scuola questo non ce lo dicono ok? perché? perché poi la scuola si è formata molto prima ancora del mercato in cui siamo sviluppati quindi figurate quanto è antica la nostra scuola ok? trae le sue origine addirittura dal 700 dall'800 quindi non è un qualcosa che possiamo prendere a modello ti servono abilità nuove e ti servono dei partner che ti aiutino in questo viaggio io ho creato i start del web proprio per questo cioè noi diamo alle aziende tutto il supporto per sviluppare i tre pilastri di cui abbiamo parlato giusto per farti un esempio qualche giorno fa ho fatto formazione ai start del web cioè io stesso sviluppo quei tre pilastri perché è la strada è la via non si può non c'è una scorciatoia d'accordo e io faccio formazione ai miei ragazzi e ragazze ok? più ragazzi perché sono più ragazze che ragazzi e faccio formazione alla mia squadra perché? perché se non formo la squadra come posso sviluppare meglio la mia azienda? come posso dare un ottimo risultato ai miei clienti che poi devono continuare a comprare da noi altrimenti come faccio a fare fatturato vedi che è tutto un qualcosa messo insieme e noi sappiamo perfettamente che per esempio una cosa che ti do come consiglio non puoi attirare ottime persone le ottime persone che desideri intanto se non le paghi bene e quindi ti serve fatturato e utile e se non mostri bene fuori l'azienda perché comunicare bene ragazzi capiamolo serve sia per attirare clienti sia per attirare collaboratori dipendenti che siano collaboratori a parità iva che siano dipendenti con busta paga non ci viene a lavorare da te una persona se pensa che sei con le pezze al culo non ci viene a lavorare per te una persona se non hai un progetto di crescita se non vede un'opportunità nella tua impresa quindi se il tuo obiettivo è rimanere come sei sempre stato o stata mi dispiace per te non ti posso aiutare perché fondamentalmente il tuo destino è già scritto il mercato che si sta sviluppando oggi ti schiaccerà come la macina del mulino ti riduce in polvere quella polvere servirà a costruire imprese migliori di qualcun altro e poi succederà che magari andrai a lavorare come dipendente di qualcun altro che invece ha un obiettivo più alto ha sviluppato un'impresa con i tre pilastri e quindi può assorbire meglio gli impatti che arrivano dalle crisi non ti volevo terrorizzare ma diciamo che questa è la realtà e non possiamo scappare vuoi una mano per sviluppare i tre pilastri in la tua impresa vai su isatelweb.it slash tutor trovi il link in descrizione la prima consulenza è gratuita nessun impegno ti diamo un progetto per arrivare dove vuoi arrivare dopo te lo diamo in mano poi vuoi arrivarci da solo da sola a posto nessun problema vuoi farlo con noi ti accogliamo a braccia aperte e ti giuro la mia squadra fa di tutto perché tu possa raggiungere il tuo obiettivo direi che possiamo concluderla qua so di aver affrontato questi tre pilastri in maniera molto veloce quindi se vuoi che approfondiamo qualcosa ti basta scriverlo nei commenti o con un messaggio privato sul sito isatelweb.it trovi un form in fondo lo compili comunque sia io sono Enrico Cecchini e ho fondato isatelweb un'agenzia che si occupa di portare clienti e attività tramite la gestione delle loro pagine social aziendali vuoi leggere qualcosa di più ci trovi ovviamente sul sito isatelweb.it ma anche sul social che utilizzi più spesso e sulle principali piattaforme di podcast detto questo buona giornata buon lavoro e buona comunicazione online ciao ciao Grazie.